Facciamo che le chitarre sono le cose più gettonate. Guitarristi sono i più appassionati in assoluto. Cioè, quelli non resistono proprio. I chitaristi non mancano mai. Queste fiere, queste copie di batteria, quasi niente. Stendi chitaristi. Un kiki. Eh. Le vado a provare là. In casa. Beh, dobbiamo andare via i nostri rubini. Vado via, vado. Vai via. Vado via. Ma è facile arrivare alle 10 di stasera, mi sparo. Sei matta a 10 di stasera? Sì. No, vabbè, vado fuori. Dopo c'è il jambo. Vado a vedere tutti qua. Scusa, non puoi stare qua? Che ci sono quelli che fanno i pop. E quando si buttano con gli skate. Eh, se ne torniamo te. Eh, al jambo. Ci andiamo da qua, vado. No, però alle 4 volevo sentire Dalla. Dalla si piove anche alle 4. Alle 4. Alle 10. Scusate. Scusate.